Mi piacerebbe leggere la domanda, ma non so quale sia Vabbè, qui adesso noi stiamo facendo un video Quello è un video? Cioè non è un original, perché di questo ci sarà anche il vlog Ma se faccio così non diventa un video, è un video musicale No, perché hai messo gli applausi Però adesso noi partiamo, registriamo anche la Madonna Cioè facciamo... Fermi, adesso parte il podcast, quindi... Applausi Ma che applausi? C'è la musica all'inizio di un podcast Bentornati quindi su questo vlog... Podcast, blogcast Potevamo non tagliarlo all'inizio, ma lui ha detto applausi Quindi dovremmo tagliare la... Bentornati, abbiamo Super Eddie Applausi Super Eddie? Sì, Super Eddie Che ci chiede Se aveste la possibilità di... Lo sviluppo di un videogioco, cosa vorreste? Di dirigere, mancava dirigere Lo sviluppo di un videogioco Cosa fareste? Allora io ho appena simulato... Come se noi avessimo questa possibilità Posso raccontare cosa ho appena fatto? Ho simulato una cosa che mi è successo un po' di tempo fa Ho detto... Aspetta, te lo tengo io Qualcuno Non dico chi, non dico in che circolo Ma io non te lo muovo così di certo Non eri tu, non eri tu, non eri tu Però mi è successo che io facevo fatica a leggere una cosa Perché era molto lontana, no? Aspetta, te lo tengo io Bene, bene Comunque Sì, oggi si parla della direzione artistica e non creativa, se vogliamo Di un videogame Se noi avessimo la possibilità di dirigere un videogame Sì Cosa che è stata Cioè, noi abbiamo fatto un videogame Un po' cazzo di cane Molto cazzo di cane Erano altri tempi Ma infatti era gratis Era gratis, costava 0 euro 0 centesimi Sì Tutto in beneficenza è andato 8 anni fa, credo Ha fatto più di 100.000 download Sì Abbiamo battuto Cyberpunk No Per essere gratis Stava solo sul nostro sito Non l'abbiamo mai messo su Steam Quindi Lo trovavate solo su QDSS.it Quindi Diciamo che abbiamo partecipato Alla creazione di questo videogioco Abbiamo aiutato qualche sviluppatore Qualche volta Qua e là Con qualche consiglio spot Però La direzione di un videogioco Così come Viene inteso dalle masse Ovvero un videogame Simil a Non dico doppia A Non dico tripla A Ma almeno A Un videogioca Un videogioca Ecco Come la faresti questa direzione? Bene Soprattutto che tipo di direzione vorresti? Io mi ispirerei molto al lavoro di Kojima per quanto riguarda l'infusione di una filosofia nel gioco Mi ispirerei a CD Projekt per quello che riguarda il quality control Chiaro Mi ispirerei assolutamente a Bethesda per quel che riguarda l'ottimizzazione delle meccaniche di gameplay Soprattutto del combat system Mi sembra giusto E mi ispirerei sicuramente a Santa Monica per i cestini del pranzo Santa Monica Solo i cestini di vita Sì perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo diciamo la verità Perfetto Vabbè che anche Santa Monica all'inizio quando l'hanno buttata su PC Hanno comunque buttata in tragedia Ricordiamo i caricamenti un po' Per i caricamenti ti puoi ispirare O a From con Gladborn Sì Oppure a La prima versione di GTA Adesso è migliorata però Le prime versioni di GTA Erano di un tedio fotonico nei caricamenti Allora tanto per cominciare Parlando seriamente Noi sono anni che bacchettiamo sulle mani qualsiasi tipo di realtà videoludica Che non riesce a stare al suo posto Nel senso Hai uno studio di quattro persone Sì Devi fare un gioco semplice Con un'ideuccia carina Senza troppe pretese Magari non diventerai il goti Perché il tuo gioco non ha troppe pretese Ma sarà godibile Se invece tu hai quattro sviluppatori Vufa Skyrim Bello Viene bene E soprattutto possiamo farci un bel gameplay noi dopo Quindi non devi Carpare Tarpare le ali a questi A questi professionisti videoludici Che anche in pochi possono dare Tanto Moltissimo No veramente Se avessimo la possibilità Di dirigere uno sviluppo del genere Credo che Sceglieremo la carta dell'ironia Sì Dell'autoironia soprattutto Sceglieremo la carta della semplicità E soprattutto faremo un rage game Da farvi vomitare la madonna Esatto Ma non perché Sai i rage game Siano Facili No perché ci dobbiamo vendicare Perché ci dobbiamo vendicare Di anni Di Di asti Sì Confronti del mercato videoludico E Nella fattispecie di alcuni No vabbè Parte tutto Deve essere semplice Deve avere una sua linearità Una linearità Che poi si può andare a comporre nel tempo E nei livelli Ma far uscire effettivamente La Mi stanno continuando a rompere i coglioni via telefono Però Far uscire La linea Una linea semplice Che riesca a tirare fuori Quella che è Quello che è il vero mood del gioco Non immediatamente Ma col passare dei livelli Sì Ci vuole diciamo così Allora Noi ultimamente ci siamo chiusi moltissimo Su Alt F4 Ok Perché è un gioco fatto di merda Un gioco impossibile Difficilissimo Anche voi vi siete divertiti un sacco A vederci fallire Sì Però la verità è che Il rage game O comunque il gioco molto difficile Che ti chiama alla perfezione esecutiva Perché quello è Alt F4 È ingrippante Lo è Se rispetti certe caratteristiche Che fortunatamente non sono complesse Da mantenere Si tratta di avere un Potrei farcela Cioè la cosa più difficile di un rage game È darti la sensazione che Al prossimo giro forse ce la fai Ed è lì che dai l'effetto ciliegia Devi essere bravo a fare questo Devi essere bravo a far morire il giocatore Facendocelo pure un po' ridere Sulla sua morte Chiaro Perché sennò diventa La seconda parte di Elden Ring Perché sennò diventa Le morte Anche la prima Perché non è capace Anche la prima parte Sì Cioè diventa un gioco punitivo In cui ti senti inferiore Invece nel gioco Il rage game C'ha di buono Che te quando lo compri Sai già che muori Quindi rosichi di meno E soprattutto Se sei abbastanza bravo A imbastire le trappole Perché molto spesso di trappole Si parla In un rage game L'utente potrebbe anche farcisi due risate Alla ventesima volta Non più Ma La prima volta Potessi Quindi Per noi Quello Visto che sicuramente Non avremo a disposizione Mille sviluppatori No Cioè uno Due E per noi Quella sarebbe la via Cioè fare un gioco Molto di cuore Molto ironico Rage game E Possibilmente Anche un po' Meta Concettuale Cioè magari che parli Proprio dei videogiochi Sì che si racconti E racconti Il nostro ambiente Forse Perché Forse la vera Cosa Che ci Potrebbe Contraddistinguere È andare a parlare A un pubblico Di videogiocatori Quindi fare un gioco Per i videogiocatori Che Videogiocano Mi spiego meglio Come tutte le software house Mi spiego meglio Io non voglio fare The Ring Perché voglio uscire da Voglio diventare qualcosa Di sopraelevato Che faccia venire i brividi Che faccia venire i brividi Io non ho questa velleità Non ci voglio arrivare Io voglio fare una cosa Che diverta Che ti Che tu possa prendere A spizzichi e bocconi Ok Per persone Che hanno una vita Oltre al videogame Perché io faccio difficoltà A finire ancora Il The Ring Capito Ci sono ancora lì Che mi ci devo 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 lottare Per andare avanti Quindi non voglio Quella roba Voglio qualcosa Che si ricordi Perché Oh cazzo Oggi Mi faccio una partita A Gioco X Di Nicola e Mario Perché Ci metto poco tempo E mi diverto E qui Quella Magari non vado avanti Di un metro Però quella mezz'ora È spesa bene Sì Ed è molto difficile In realtà Rimanere così semplici Fino alla fine Però noi ci proveremmo Noi staremmo sempre lì A ricordarci Il concept di base Questa è una cosa Molti giochi perdono Il concept di base Andando avanti Con Con il gioco O comunque Allargandosi Introducendo Nuovi elementi Quella è una cosa Importantissima Perché dovrebbe essere Un giochino Cioè se noi facciamo Un gioco Sarà un giochino Non sarà un giocone Come diceva lui Non è tripla A Ma manco due L'importante è che Quella A sia maiuscola Sì Esatto Cioè deve essere qualcosa Che intrattenga Poi Idee semplici Ripetiamo Con un team Di poche persone Non è che puoi fare Questa complessità Puoi mettere giù Delle idee semplici Ma efficaci Roba che Magari È già vista È già stata vista Però Reimbastita in un modo Che stupisca Sì O comunque sia Che sia semplicemente Che abbia quella Pille in più Che ti fa dire Ok questo è un altro gioco Oggi fai fatica a inventarti robe Che non siano state già viste Quindi L'abbiamo detto spesso Con gli open world Sta roba qua L'importante è che Quelle cose Già viste Le facciano bene O magari le Reimbastiscano in modo Da stupire Chi le guarda Perché magari Sono fatte In una certa maniera Che non ti aspetti Sì O semplicemente C'è una bella grafica Carina O c'è una bella musichetta O magari c'è una storia Divertente Cioè Raga Fare le cose fatte bene Non è mai sbagliato Anche se magari Sono già state fatte Cioè Quanti film action Avete visto negli ultimi anni In cui una macchina esplode Ci sarà stata Un primo film In cui esplosa una macchina E tutti hanno fatto quella cosa Però io te la inquadro dall'alto Io te la inquadro dal basso Io te la faccio esplodere Perché ha preso la rampa Io te la faccio esplodere Perché dentro c'era una bomba Michael Bay Te la fai esplodere Anche nel garage Quando sta ferma Però diciamo Nei film action Succede Che succede questa cosa qui Nel film horror Qualcuno viene accoltellato alle spalle Sì Quasi sempre Ormai Nessuno si guarda più alle spalle Però Le decisioni quelle sono Cioè Non è che ti puoi inventare Chissà che Però O negli fps No Il colpo arriva Arriva sempre Può arrivare di lato Davanti Dietro Da sotto Da sopra Però è quello Non è che ti puoi andare Anche se c'è stato il primo Che ha deciso Che se colpivi la testa Facevi più danno C'è stato il primo Che ha fatto questa rivoluzione Mi ricordo che c'è stata Correggente Che colpivi il tallone Uccidevi una persona Quella è una rivoluzione Di Ubisoft Con il suo primo Watch Dogs Uccidere un agente Colpendolo sul tallone Era l'idea migliore Sì Quindi Non devi reinventarti Spesso la ruota Ma devi far sì Che quella ruota Giri meglio Delle altre Devi oliarla No Perché poi scivola E va dritto Devi fare come fa Tesla Sai che Tesla Monta pure i pneumatici Sotto le sue macchine E le fa in modo Da ridurre Il rotolamento E quindi L'attrito E quindi Il fatto Ridurre il rumore Del rotolamento Ah Oltre per Ovviamente Fare in modo Che sia La vettura Sia più silenziosa Possibile Che già elettrica Non senti niente Ma anche Per recuperare La batteria Perché Devi andare A limare A destra e sinistra Le ruote esistono Da sempre Però E di Tesla Proprio perché La batteria Dura un tot E si fa difficoltare A ricaricarla Ha dovuto Inventare un modo Per Fare Ottimizzare Far sì Che la ruota Ecco Lavorasse meglio Quindi Ci sono queste piccole cose Anche il touch screen Esisteva prima Di iPhone Eppure iPhone Poi L'ha elevato Io mi ricordo I primi touch screen Che per fare i biglietti Alla stazione Gli dovevi menà Erano orribili Quei touch screen lì Però mi fa piacere Che Tesla Si stia impegnando Così tanto Per migliorare Le sue vetture L'anno prossimo Forse una Tesla Me la prendo A te servirebbe Non viaggi troppo Cioè io veramente Mi prendo una bella Tesla Un modello avanzato E così posso lavorare Mentre sono in macchina Panda Tesla Ma beh la Tesla Te la devi sbattere Ci vuole una grossa città Cioè che fai Ti compri una Tesla La metti sotto casa E manco tieni da Perché sotto casa La metto in garage Col cazzo che la metto Però Ma tanto non te la frega L'altra volta Riflettevamo Sul fatto che Oggi La difficoltà maggiore Sarà Fottersi le macchine elettriche A meno che non vai E telecarichi Con il camion Con il camion Perché? Te la devono puntare È perché È tutto Cioè i ladri Sono abituati a Forzarti la serratura A creare Lo BD Adesso E E accendere l'auto Con degli strumenti appositi Che sono semplici Da utilizzare Se la vedete È veramente Una stuzzata Attaccate Accendete Oppure cambiando la centralina Sono tutte queste cose Perché mi stavano fregando La macchina E Non perché io ne abbia mai fregate Vorrei Mi piacerebbe Almeno provare Per la sfida Per la sfida Però Diventa totalmente Complicato Con una Tesla Perché è Tecnologia a fottere Perché Ti arrivano Messaggi Dappertutto Se si muove La macchina C'ha GPS L'antenna GPS Non è che prendi La stacca Così Quindi l'unico modo È Prendere la macchina E caricarla In un camion Ti avvicini alla macchina Attivi un jammer Quando la macchina È offline Rompi il vetro Con un mattone Non arriva nessun messaggio A nessuno Una volta che sei dentro Non devi fare altro Che aprire la piccola botola Che si trova Nella parte inferiore Che serve nel caso A rimani in autostrada Senza batteria A quel punto Fai uscire i piedi E a corsa Così Te ne vai Semplicemente Devi avere un camion Dove te la carichi È una roba che si fa Dieci minuti Massimo Anzi pure di meno Arrivi Fai manovra Ti carichi la macchina E via Però lo fanno solo Per macchina Di un certo tipo E devi avere Deve essere Ladri altologati A quel punto Dico te Te la regalo Una macchina Ti impegna così tanto Gesù rifiutò La Tesla Lo sai Sì Gli hanno chiesto Gesù Dovrei fare una scelta Difficilissima Tesla o Croce Sì Comunque Ragazzi Il gioco per noi Sarebbe Sarebbe questo Cioè Nulla di esagerato Perché non potremmo Permetterci lo sviluppo Di una cosa esagerata Però ci metteremmo dentro Tutto quello che Pensiamo di sapere Sui videogiochi Sull'intrattenimento Videoludico Anche sull'intrattenimento Videoludico Sì esatto Perché poi Fa tanto Tutta la nostra esperienza In ambiente videoludico Perché Vuoi o non vuoi Abbiamo provato talmente Tanti giochi Buoni Meno buoni Sì Ok Che Abbiamo un'esperienza Tale per cui Riusciamo a giudicare Il gioco Dai Dai da subito Appena ci mettiamo le mani Io credo I controlli Devono essere top Noi passeremo un mese Soltanto a rifinire il feedback Sì Cioè per noi Quella è la cosa più importante Poi può far schifo la grafica Può far schifo quello che vuoi Ma se Il feedback che hai Quando giochi Non è giusto Se la gravità del gioco Non è quella giusta Se I salti Non sono Responsivi Non sono bene Non sono calibrati Noi non daremmo mai Il via Bethesda Non lo faremmo mai CD Projekt Queste sono cose Tipo Io lo so che mi odiano The Witch Come cazzo Cioè io mi immagino Tutti quanti I Vinsky Quegli altri matti Di CD Projekt Intorno a un tavolo Allora raga Oggi abbiamo mosso due poligoni In una stanza sandbox Come vi è sembrata L'esperienza Perché nessuno ha detto Marcin faceva cacà Faceva cacà È stato orribile Muovermi in questa stanza Cioè lì hanno detto Ok ok Allora lo scheletro del gioco È fatto Eh vabbè Quelle pure sono scelte Magari per loro E per tanti altri Lì fuori Che non hanno accusato Il colpo E te lo ripeto Non l'hanno accusato Non avete mai giocato A una cosa che funziona Allora Però Non sono stato uno o due milioni Quindi Quindi probabilmente Quella era una roba Poco sentita Dal lato di CD Projekt In effetti Quel movimento funzionava E ha funzionato Tanto Perché ha venduto tanto Tanto che l'hanno bacciato Tanto che hanno Hanno creato un altro sistema Quello è per dare più scelta Pure tu Eh sì No comunque raga Cioè veramente Quella per noi sarebbe La cosa più importante Cioè L'interazione Perché secondo noi Il videogioco Non sta tanto Sullo schermo Non sta tanto Su di te Il videogioco sta In quella fase intermedia In cui tu Decidi cosa accade a schermo Cioè L'interazione Con Il software Per noi È la parte Più importante In assoluto Se ci vedete dire Cazzo questo gioco È un capolavoro State tranquilli Che a livello di interazioni Il gioco non ha Una pecca Poi Dovremmo scegliere Anche i nomi Degli sviluppatori Che fai Dirigi una roba E non scegli Scegli ne due Per la storia Chi ci metteresti A parte Martin Perché abbiamo visto Che fa un lavorone Quando scrive una storia Per un videogioco Martin Io Uno che si chiama Federico Andrebbe bene Federico Federico E basta così Cioè Non ci vuoi mettere Federico Questo è molto semplice Sì Federico È un bel nome Ti dà l'idea Di affidabilità È vero Tu come lo chiameresti Federico Lo sviluppatore amico Vedi Federica Fa diverso E a chi affideresti Invece Il game design Game design Un po' Un po' Più complicato Ci devo Ci devo riflettere Un po' Un palmieri Un omonimo Un palmieri Palmieri Un palmieri Nicola 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 Noi siamo Anche lì Molto equilibrati Quindi potrebbe funzionare Poi Nicola È un nome Diffuso Poi mio padre Si chiama Nicola Si chiama Nicola Lui Si chiama Nicola Da mio padre Ho detto a mio padre Senza offesa Ma se mi nasce un figlio Non lo chiamo Nicola Poi non si capisce più Un cazzo qua Però Fondamentale Robbe semplici Se lì fuori ci sono Gli sviluppatori E pensano Fuori dagli schemi So magari Avete un sogno Di fare L'open world Più bello Di sto mondo Si Però nessuno inizia Creando l'open world Più bello di sto mondo Ci sono tanti fallimenti Intermedi Quindi iniziate a fallire Con le idee semplici Perché sono più facili Da aggiustare Si È tipo Molti giochi Hanno Una pessima struttura Narrativa Io Quella cosa La farei gestire Da uno che ogni tanto Scrive qualcosa Si Un palladino Che ti scrive Magari la trama del gioco Che ti fa Due sceneggiature Un Mario Ma un Mario Un palladino Poi vediamo Perché comunque Mario È un nome anche abbastanza abusato In Italia Poi sai che Qualcuno che doppia No? Siccome il team è piccolo Uno magari doppia No? E tu lo faresti Fa sempre a sto palladino? Palladino Un po' Nicola Un po' Federico Un po' I collaboratori Insomma Facciamo doppiare A chi si trova Comunque Tutto un doppiaggio Però è tutto ipotetico Potrebbe essere Cioè Può essere un'idea Che comunque sia Ti mette lì E tu se devi dirige un gioco Devi avere l'idea chiare Quindi mi raccomando Il team Anche a partire dai nomi Ecco Potrebbe aiutarti Perché magari Metti che ti capita uno Che si chiama Massimino Locazzo Uscalzit Massimino Uscalzit Lo vorrei Nel team Io no Tu no Vedi Già ti devi porre Con quella Con quella mentalità lì Comunque ragazzi Sempre Sempre sul pezzo Bisogna stare Quando si fa Un nuovo gioco A noi piacerebbe Fare Fare un gioco Tra l'altro Abbiamo già teorizzato Il Dream Team Più totale Probabilmente Poi Poi c'è anche un modellatore 3D ci vorrebbe Il nome non ce l'hanno detto C'è Però insomma Questo Alla prossima